signore e signore vengano vengano ad assistere alla grande battaglia nell'arena della musica 10 lottatori e un solo vincitore affilate le note la top 10 sta per iniziare su cinefam 100.7 ne rimarrà uno solo al mio segnale scatenate l'inferno andiamo subito con la top 10 numero 10 per koetz con la tua canzone posizione numero 9 per irama con arrogante e sono un arrogante e non mi importa se non sei più dalla mia parte numero 8 per fredde palma con anamena una volta ancora posizione numero 7 per i giornalisti con maradona e pelè numero 6 con lorenzo cherubini giovanotti prima che diventi giorno numero 5 per benji e fede il singolo dove e quando posizione numero 4 per mahmud con barrio sul podio numero 3 fabio rovazzi con lorenzo abertè jx senza pensieri numero 2 per emma marrone il brano io sono bella posizione numero 1 questa settimana e lo dico con marrakesh il singolo margherita sono loro i numeri 1 bevi un altro margherita poi mi dici che è finita